È nato il condimento più delicato che c'è. Si chiama Dolce Agro Ponti. È il frutto di un'unione sapiente tra mosti aromatici e pregiato aceto di vino. E soltanto Ponti è riuscito a crearlo. Ed è così delicato e profumato che per far innamorare ogni piatto non serve aggiungere altro. Ponti. La nostra storia ha un altro sapore. Grazie.